musica 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 udite udite spiega la montata è tornato ciao a tutti sono spiega la montata e benvenuti in un nuovo video qui sul mio canale come vedete siamo su teccarat siamo la puntata numero 50 e nella scorsa puntata abbiamo montato questo se non sbaglio e i rubi dentro sono andato a prendere un po' di nicolite a proposito mi dispiace tantissimo per essermi assentato così tanto dal tubo ma credetemi ho avuto una settimana molto molto disastrata per quanto riguarda la scuola non in senso negativo per il profitto però ho dovuto studiare una miriada di cose che oddio che linguaggio furbito linguaggio furbito di spiega 98 no dicevo ho dovuto studiare un casino di roba quindi se non ci sono stato nel tubo ringraziate i miei professori grossi professori allora dicevo ho preso un po' di nicolite però andiamo a nanna ho messo a cuocere un po' di silver che avevo la infatti ho anche fatto la robetta qui che lo prendo in automatico però dovrebbe essere finito perchè ce n'erano tipo una trentina di pezzi quindi silver azzarola va benissimo la nicolite come sapete è molto facile da trovare molto sto pensando anche di mettere di nuovo il query cioè di ricraftarlo dove lo sto mettendo? di rimettere un po' il query allora devo riprendere la parlantina come al solito ma vabbè nessun problema e poi 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 wall ok dobbiamo fare una farm perchè ci serve veramente una farm di stringa anche se ne abbiamo un bel po' beh insomma neanche tante tramite le piante flaxseed tramite queste devo fare si devo fare una farmina una farmina però stavolta so già cosa fare perchè utilizziamo una 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 specie di timer che però non è un timer dove siamo? dove si trova? dove si trovano? wiring no tools machine no lumer logic advanced sincronizer randomizer transparent light sensor no for capaletta power logic e e tra questi ne sono quasi sicuro ripeter no multiplexer no buffer gate not gate toggle latch pulse xor knorr and knorr rs latch bundled part timer eccoli qua timer sequencer sequencer ehm lo faccio poi vi spiego cos'è allora ne abbiamo bisogno per una ehm facile rappresentazione come si può dire ma questo è diverso da questo ah questo è ok ah queste hanno soltanto lo stone buffer mentre queste hanno anche lo stone sopra poi cosa ci serve nient'altro ah quindi ehm 9 stone buffer che si fanno cociano la stone e ne danno 2 quindi devo farne 5 stone cavolo non mi avanzano mai stone buffer però questa volta si ce ne avanza uno perchè li faccio sempre giustissimi cuocciamo un po' di melma un po' di cobstone facciamo la stone buttiamo questa melma dentro questo questo progetto lo fermiamo un attimino perchè ci serve la lana allora dove la facciamo questa benedetta farana ho delle casette libere che ne so allora questa è già occupata a meno che non facciamo un piano lì sotto si un giorno mi deciderò a collegarla all'impianto a meno che non facciamo un piano lì sotto qui mi sa che devo fare una nuova casetta no la facciamo nel piano lì giù della nostra casa no? e la accendiamo quando ci serve no? sugar 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 quante sugar abbiamo così per cosita? azzo palazzo hai finito di cuocere la cobblestone? certo allora stone ok ne facciamo cuocere 5 per fare gli stone buffer olè ok poi prendiamo delle redstone torch se ne abbiamo se no le facciamo subito infatti non ne abbiamo stick ne facciamo uno stacchino così giusto per gradire tanto redstone ne abbiamo un bel po' perchè la produciamo ok glowstone come siamo messi con la glowstone yep 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 naturalmente è un po' di più della redstone perchè non la usiamo quasi mai ok redstone torch che pronuncia? stone buffer no si si e facciamo quattro di questi poi per gli altri devo mettere così e della stone giusto? giusto? no così yes uno di questi e gli altri devono stare così due tre quattro uno un due tre quattro sequenze eccolo qui ora ora di cosa altro abbiamo bisogno? probabilmente troveremo tutto qui allora deployer poi ci serve un 2 deployer un block un block breaker deployer ne abbiamo qualcuno in effetti e un block breaker block breaker anche di questi perchè ne abbiamo così tanti? ci siamo per craftare qualcosa per caso use use age scusate no mi servono a niente bah forse non lo so non lo so intanto qui ho messo a cuocere questo vediamo un po' si sta andando avanti quindi lo no lo facciamo qua giù ci serve anche un po' di vabbè lo possiamo prendere da giù con questo da partiamo andiamo ah per curiosità guardiamo anche quante stick abbiamo quante stick 5.933 beh in effetti sta andando bene la raccolta l'holland oh ho un dubbio cioè non dubbio cosa faccio allargo un pochino qua oppure lo faccio direttamente boh così a cacchiux de canis a cdc cazzo di cane ehm in effetti non lo dovevo dire mi sono dimenticato delle cose pneumatic tube ma spero il brass però ce l'abbiamo ne sono sicuro olè vabbè perchè l'ho preso qua non abbiamo crafting però li mettiamo o magari project mettiamo questa che è una via di mezzo tra la project e la crafting table classica perchè almeno qua restano le cose quindi facciamo così eeeen glass olè facciamo un perchè si è fermato? oddio che merda sta crafting meglio l'altra in effetti ributiamo tutto quello che non ci serve cioè questo 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 perfetto allora mmm quasi così facciamo di redstone di redstone ne abbiamo già qualcuno eeeh qua perfetto allora regoliamoci mettiamo block break a sinistra no dobbiamo metterli in ordine allora rompe eeeh mette il seme bomb mill qua mettiamo la terra dirt l'acqua ci serve acqua water abbiamo della water non credo qua però no infatti azzarola 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 devo trovare il modo di poterne cioè no vabbè ma perchè me la metto tanto ho un casino di spazio ma insomma li ho fatti da 16 alcuni ne ho fatto 2 no 3 no 2 2 da 16k e non ci sta cioè ci ho messo una vita a farle quelli mi ricordo mamma mia vabbè no mi sono indicato un'altra cosa la oi oiii eccoci qua oe 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 eccola qui perfetto di ferro addirittura perchè siamo ricchi allora facciamo così poi no no che ho fatto perchè non posso aprire ah un block breaker ah rompe qua non c'è bisogno di questo allora rompe la piazza no ma che cazzo che fare ah si rompe i fiori cioè il cosi qua piazza la roba come posso fare allora dobbiamo fare che qui c'è una chest di mezzo in cui vanno a finire ehm no sto dicendo che siate si sto pensando nel frattempo e si ok ci sono barrel mi saranno dei barrel barrel che non abbiamo perfetto nemmeno qualcuno vuoto qui si tu guarderai vedrai con me oh my god ehm stone stone brick a proposito sta per iniziare la nuova serie quella che vi avevo annunciato un bel po' di tempo fa sta per iniziare manca poco in realtà ce ne ho due in mente una ve la posso anche accennare ehm si tratta di una serie di videogiochi per cellulari ma non vi dico altro allora può prendere da sotto in che senso vabbè allora fatemi pensare cosa si deve fermare lì le stringhe le stringhe ok piazziamo qui capotegna dove è finita mi piaccia fa una però non si vada non lo so comunque mi ha fatto tutto 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 allora qua si deve fermare le cose non fermare le stringhe così va avanti qui deploy ice 6 mesi quindi flux seed ok flux seed si va bene qui poi l'ultimo passo è quello eh del bone meal no ops ho fatto una cacata quello che qui servirà quello di far di redstone per un motivo che adesso non mi sto a spiegare eh allora deployer bone meal allora dobbiamo mettere il bone meal in modo che sia completamente automatico e veloce soprattutto quale diciamo anche già che ci siamo visto che mi sono ricordato ehm avevo un ingresso automatico giusto yes bone meal trituralo tutto zack perfetto una volta che ci sia sempre il bone meal triturato tanto che abbiamo un sacco veramente tanto e poi non può finire perchè comunque abbiamo la farm benissimo benissimo mettiamo qui la 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 storiella eeeh fatemi pensare ok il sequencer la mettiamo qui perchè ho deciso così eeeh quindi quindi non ho preso i fili si ce li ho ce li ho quindi pian piano come vedete fa tre tick zack ora veloci diamo un pochino manca di meno zack 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 un un due tre un due tre perfetto no no absolutely no ops no ma che cazzo ho fatto mio dio che logging ho un due tre anni fa prima ma la piazza 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 i semi eeeh bonmilla e blockbreaker perfetto quindi piazza i semi blockbreaker ah piazza i semi piazza i bonmilla e blockbreaker e tutto va nel sistema così si lo facciamo gestire dal sistema dai dal nostro sistema e me in realtà è a play the logistics però lo chiamo e me non so perchè chest ok lo mettiamo qui quindi 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 fatemi pensare allora 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 mamma mia mamma mia questo per primo no assolutamente no così allora questo piazza i semi zac piazzato il semi piazzati i semi poi il secondo blow eeeh no piazza il bone meal bone meal ole oddio santo che succede fermi tutti questo verrà più ok eccomi qua allora si ci servono delle cose molto interesting si chiamano jacketed wire e servono fanno dei sono dei delle cover con dei red alloy ingot dentro che quindi passano le eeeh l'energia eeeh nello stesso tempo possono essere messi senza nessun blocco di appoggio allora delle cover ce le abbiamo del red red alloy wire non ne sono sicuro si si ce le abbiamo cover ce ne abbiamo come si facciano le red questi? 4 redstone un iron bella redstone ce l'abbiamo iron pure 64 8 pezzi d'iron non posso ricevere chiamate ora non è possibile ooooh il nostro dominatore 009 xd ci fa sapere che ci sta chiamando ma non posso rispondere in questo momento scusate un attimo anzi no mi dispiace ma non posso rispondere ti richiamo dopo lol durante il video questo è altro vabbè mettiamo a cuocere quello nel framment eeeh buttiamo queste ok perfetto abbiamo red ma abbiamo jacketed wire no eeeh si ok eeeh lo mettiamo lo mettiamo così una volta si collega ma non ci bastano per uno cazzo oh mio dio oh 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 per l'ho appoggiato a block blu block breakato o sbaglio a meno che non ci riusciamo a non so io come fare 1 2 sono un furbastro ole Non consuma il bone meal Quando non può bone millerare Quindi un, due e tre con questo Mio dio Perché block breaker ma non raccoglie? Cioè raccoglie ma non tutto Allora ricapito l'angolo Non capisco, non capire Ci vuole veramente un cazzo di coso che si prende tutto Non ci posso credere Ma io posso pure mettertelo però che palle Oh, fangulesh No, 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 c'è qua quadrachennoncosa Fatemi pensare Allora, non ci troviamo bene come è la storia ZAC Prende delle cose ma non tutte Si è appena scaricato il jetpack E io non capisco, non capire Allora Pensiamoci, credo che andrò a fangulo Vabbè dai, lo facciamo nella prossima puntata Quello perché non ne ho voglia di smadonnare così Eh, tanto abbiamo anche altra roba da fare in effetti Roba abbastanza pesantuccia Andiamo a fare la nanna La nanna, ok Perché per esempio dobbiamo cablare di nuovo tutta quella merda Merdaccia Merdocchia Allora Qualche blu coso No, come si chiama? Ah, eccole qua Cacchio, ci serve a preferire questo, la lana Vabbè, una piccola scorsa ce l'abbiamo, dai Credetemi, è pochissimo Con tutti i cavi che ci serviranno Ok Andiamo a Oddio Questa porta è di merda Oh cazzo, è vero Si è scaricato Il coso Allora, leviamo questo Se no ci mette un casino A caricare Dove sono, dove sono? Vabbè, nel frattempo Oddio che velocità Ma qua come va? Scende, scende Ok Possiamo andare Allora, dobbiamo piazzare tutti Oddio, abbiamo bisogno di cobblestone Mi sono dimenticato Azzarola Perfetto Piazziamo questi Allora Come qua Allora, devo cantare tre blocchi da ogni parte E sono a posto Un, due, tre Qua Merda Mi sono dimenticato gli stone Gli stone cosi Eh, qua prendi Off Un gulo Stone Dobbiamo prendere gli stone bricks Che non abbiamo praticamente Però abbiamo la stone La materia prima Smettila di laggare Ordunque No, perché dovete sapere che È successo un casino Il server della 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 Microsoft No, intendeva I server della Mojang Sono offline Perciò mi sono trovato Un pochino nei casini Diciamo Per registrare Perché Boh E quindi Quattro Cinque Sei Sette O Merda Dovantatré Cento Dieci Blocchi E quindi Niente Mi sono trovato Nella merda Perché Adesso sono Con un Un coso Craccato E non mi piace Sinceramente Però devo registrare Per forza Ne ho bisogno Ne ho bisogno Sei Sette Otto Nove Dieci Comunque farò un vlog Tra un po' Li faccio studiare Una parte Tutti verso là Tipo Oppure li faccio Ognuno verso la sua parte Ognuno verso la sua parte Ha giudicato Ale Ok Ole Costruiamo la struttura Che non è altro Che Questo Sbaglio Sono andato Troppo avanti No Sembrerebbe giusto Tre Un Do Tre Poi facciamo così Ole Ole E' una cassiata La struttura in realtà Perché sono un po' indeciso Se avete qualche idea Più Migliore assai Basta dirlo Ok Piazziamo la cosetta Non piazziamo Montiamo la Wooden Coso E mettiamo anche i cavetti Volendo E ne volendo Ole Non sarà un'impresa Da Poco Ok Siamo arrivati Ok Qua mettiamo tutto verso Verso nascosto Esatto E qua facciamo la congiunzione Con il nostro Impianto Ciao turcia Come vedete qua c'è un anello Che permette di collegare Questa Mierda E ok Ok Si è stata una buona idea Fare questa Stora grandissima Fighissima struttura Potrei anche modificarla In qualche modo Ma non ne ho voglia Si credo sia la risposta Adatta Va bene Faccio questo Magari off camera O Non so Fate voi Si lo faccio off camera Ci vediamo A frappè Ciao Eccomi qua Allora Come detto Le ho montate tutte quante Dove solo finire di cablare qui E poi C'è da craftare Qualcosina Innanzitutto qui Vediamo un po' Se si è caricato Anche se non dovrebbe Perché manca una parte Ah no È scollegato Sono un genio Ah Beh in effetti Poteva anche arrivarci Che Cioè No l'ho fatto apposta Non collegarlo E non mi sono ricordato No non l'ho collegato Perché manca una cosa importante La batteria Che non ricordo sinceramente Di aver Se Cioè non mi ricordo Se l'ho già craftato Oppure no Non credo però Perché Se no ce l'avrei Addosso Come tutte le altre cose Che ho Di questo progetto Che ne è di questo progetto A proposito È ambizioso Eh Oh mio dio Ho calcato Un tasto Del mouse Allora Sì Le ho collegate tutte Ora Fatemi fare una piccola prova Ole No Ehm Vabbè Da quanto si può essere Cretini Vabbè Vabbè Niente Nessuno Ah già Niente Perché non so se producono In ogni caso Tanto devo fare un'altra cosa Quindi Questi praticamente Questi Specie di Come si chiamano Di windmill Ehm Della red power Ehm Funzionano solo quando c'è vento Adesso qui non è che ci sia troppo vento Perché non si aveva un'altezza così spropositata Però se c'è tipo una tempesta Che adesso comincia a piovere Cosa molto Molto Ehm Come si dice Insomma Succede molto spesso nel mio mondo Che piova Ehm Questi produrranno energia Nel frattempo Quando non piove Ne utilizzeremo un altro metodo Aia Nah non è vero Non mi faccio niente Utilizzeremo un metodo di pannelli solari Non questi pannelli solari Perché questi sono in un altro modo Sono in base Ah scusate se per la vostra voce Ma L'orano è delle più comode Allora Utilizzeremo Questi Solar panel Si fanno con questi 4 nicolite E un silicon buffer Si fa con 8 e 8 8 call e 8 send Quindi Send No però così è troppo Ma facciamo così Perfetto Sbogliato tasto in effetti Perfetto Togliamo questo Togliamo questo Mettiamo Questo e questo Buttiamo sta merda One two three four five Six seven eight Nine Turn eleven No quelli ci servivano Azzo No filler magari la mettiamo nella Chest Ma porca di quella torza Sozza ladra Buoyacana Ok Allora Allora Dove fare questi Che si fanno con questi Che si fanno con Nicolite Abbiamo Nicolite Si Ma che bravo Spiro 98 Quattro Nicolite E un silicon buffer Quindi Diamond Enzo La dovremmo avere La sega a mano Ti ho detto così Non ce l'abbiamo Enzo Eccola qui Tatatatam Non so perché Mi è venuto in mente Austin Powers Vabbè una professoressa Che le somiglia Quindi Tutto è possibile Niente è impossible No No Allora Quando era la Allora Quattro Nicolite Un silicon buffer Quindi Eh scusate Quattro Nicolite Si Quattro Nicolite Un silicon buffer Quindi 16 32 64 Quindi 8 Così Facciano diversi Grazie Quattro Quattro Una 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 Ehm Fatemi pensare Nicolite Nicolite Uno Due Tre Quattro Mi sono già dimenticato Asso Silicon buffer Eh no Per 32 Non basta Che ne metti Così circa Fanno più che poi Grazie Però ce ne serviranno Moltissimi Eh sì Eh sì Mi sa che non ci bastano Ci servono 8 addirittura Vabbè Noi prepariamo Questo Gli ha fatti Sei Bravo 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 Praticamente questa puntata Non abbiamo fatto niente di serio Alla fine Cioè niente di finito Come al solito D'altronde Nel frattempo Vediamo un pochino Come si fa la battery Che probabilmente avrò già fatto Ma non mi ricordo Però vabbè Battery box Questa che ci serve Sì è questa 4 BT battery Quindi 6 nicolite O nicolite Non lo so È del copper Giusto Giusto No 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 Copper e tin Il tin Abbiamo del tin Poco Però ce l'abbiamo Ok Poi 3 ferri Un blu Così Iron Adesso è solo una prova Perché poi ne faremo anche di più Credetemi Ce ne serviranno Blue And Ah Oh Olè Abbiamo la nostra batteria Battery box Eccola qui Ha una gui Adesso scarica Naturalmente Perché Non è collegato Ma si Le vado a mettere qua No vabbè Non dovrebbe caricarsi comunque Perché Questa lo stanno producendo Ora Infatti Aia Aia Mi ha fatto 8 Dai 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 Mi fanno 16 Grazie Così ne faccio 2 16 Grazie Allora Mettiamo via Mettiamo i blu Così qui Perfetto Abbiamo proprio 2 Ok Credo che metterò il query Però vabbè Per adesso Andiamo a nanna Grazie timer Grazie Andiamo a nanna Così vediamo un pochino Come funziona E poi chiudo la puntata Perché il timer Mi avisa Che ho finito il tempo Eh Sì Le mettiamo Uno qui E uno qui Olè Come vedete Si sta caricando Molto lentamente Perché comunque Sono soltanto due pannelli Ma io ho un dubbio Io ho un sogno Avere un sogno Ma è vecchia Come il cucco Questa battuta Cable No Wire Sì Ho un piccolo dubbietto Perché mi sembra strano Anche se non stanno girando In effetti Questo potrebbe essere Un sembolo E infatti non c'è Allora Una prova Così Toggle down fall Ok Sta piovendo C'è una bufera Si stanno girando Ok Qua funziona Vabbè non lo so Ma io Non so Per sicurezza Mettere anche un pezzettino Qua sopra Perché mi ricordo Una cosa del genere Qui Se tipo Non si metteva Un coso qua sopra Non funzionava Vabbè Lo metto in tutti e quattro Poi al massimo Cioè Sono quattro pezzetti Di cavolo Non è che mi cambi la vita Ok Eh Verda Ok Vediamo un pochino Si sta caricando In realtà Non troppo Perché non stanno producendo Ora Sta c'erando La Tempesta Ole Ok Andiamo a casa Io sono Spiega Non tanto se il video vi è piaciuto Mettete un piaccio Iscrivetevi Condividete Mi trovate Mi trovate sempre Mi sono impappinato Non mi è mai successo Vi trovate sempre su twitter Google plus Su mio sito Spiega98.x10.mx E su facebook Digitando facebook.com Slash Spiega98 Ufficial Io sono Spiega98 Ciao a tutti Ci vediamo nella prossima puntata Di Techcraft E nei prossimi video Dove ci sarà la nuova serie Le nuove serie E forse all'inizio Anche una nuova Su 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 Minecraft Senza naturalmente Finire Techcraft Anche se dovete capire Che Siamo quasi Alla frutta Di questa serie Perché Insomma Diciamo che abbiamo fatto Un bel po' di cose In questa serie Perciò Non c'è rimasto Molto da fare Comunque Adesso non pensiamo Adesso pensiamo Alla serie Che sta andando avanti Va bene Io sono Spiega98 Ciao Ciao